si dedicavano pure alla musica giustamente, era la loro passione non avevano strumenti, come potevano fare personale? l'unica cosa era rubare una bella scasola di sigari come questa qua e provate a riservire un bel bastone messo così una corda, io ho esagerato con te una corda e questo qui era il sigar box una specie di chitarra antica, no? e suonava più o meno così but when the Lord is slain you've got to move you may be high you may be low you may be rich down you may be low 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 Buonasera! Buonasera! Si vince nel nostro show! Blu! Vi presento subito il balleo Sardegno Marcos Gammondú Bello calmo perché sei Gabriele Dottili! Grazie! Grazie! Al passo, con un piano, baby, chini, chini, Mr. Daniele Pellin, baby! Baby, shi, shi, we can do what we do, baby, tonight Oh, baby, shi, shi, I can't carry around and we all move the dance, move the piano, I can stay and feel it tonight And we all know everything in your life We all fall down to the ground I can feel you're broken now We all fall down to the ground I can feel you're broken now Baby, shi, shi, we can do what we do Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.